inizia oggi 15 giugno 2020 la cosiddetta fase 3 post coronavirus post covid 19 una nuova fase che va a segnare la riapertura di centri estivi anche per l'età da nido ovvero da 0 a 3 anni riprendono dunque gli spettacoli con diverse cautele risale giochi e risale bingo diciamo così che riaprono però non in tutte le regioni infatti a partire dal primo luglio le sale slot le sale bingo le sale scommesse riapriranno e non prima anticipate le 12 partite di calcio con la disputa di cauppetaria ricominciano gli spettacoli ma con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e 200 spettatori per spettacoli luoghi chiusi per ogni singola sala riapriranno ripeto le attività di sale giochi sale scommesse di bingo a condizione che le regioni abbiano controllato la compatibilità con l'andamento della curva epidemiologica però non nell'assio ripeto perché nell'assio riapriranno dal primo luglio 2020 il 25 giugno riprenderanno gli sport di contatto amatoriali anche in questo caso in maniera compatibile con l'andamento della epidemia a 14 luglio invece si sposta l'apertura di locali e discoteche come anche i viaggi sul crociere vi ringrazio per l'ascolto il video termina qua iscrivetevi se vi va commentate dunque volendo oggi l'avvio della fase 3 15 giugno 2020 ciao da leandro narrato italiano